Ciao ragazzi e ragazzi ben tornati nel canale e anche oggi Grattitina Mista abbiamo una nuova location e non sto a casa quindi adesso faccio questa ripresa qui e poi ritorneremo di nuovo a casa mia con un altro video allora ragazzi abbiamo un 10x un 5 scopa numeri fortunati tutto e per tutto e aria gold iniziamo subito a grattare il 10x con il numero 61 allora ecco qua facciamo ecco ok allora grattiamo i numeri vincenti 37 25 43 e 30 allora vediamo subito 42 niente 35 niente 34 no 19 e 17 niente 14 44 e c'è il 43 40 40 32 e infine il 39 e niente ragazzi questo biglietto è perdente adesso abbiamo il fae scopa vediamo a numero 12 questo numero mi piace allora le carte sul tavolo asso più 4 quindi abbiamo 5 dobbiamo trovare un 5 prima giocata asso qui abbiamo 8 e 7 niente seconda giocata 10 asso e 2 niente vediamo nella terza giocata se troviamo questo 5 qui abbiamo un 6 niente da fare 4 niente 3 come prendere in giro 3 4 e 6 5 non c'è poi abbiamo 9 un 3 e infine di nuovo il 6 e niente ragazzi anche questo biglietto è perdente adesso vediamo con il super 7 e mezzo numero 29 allora vediamo il banco asso mezzo e 5 quindi dobbiamo superare il 6 e mezzo iniziamo dalla prima giocata mezzo 4 e mezzo niente seconda giocata mezzo mezzo e 5 abbiamo un 6 e 6 no questo 6 e mezzo quindi niente anche qui vediamo con le super carte se riusciamo a fare 7 e mezzo mezzo 6 e qui dovrebbe uscire un asso e niente ragazzi anche questo biglietto è perdente vediamo adesso i numeri fortunati numero 8 e vediamo se sono un po' fortunati perché i biglietti che abbiamo già grattato sono quelli che sono tutti perdenti allora vediamo qui cosa succede invece 12 12 12 12 eccolo qui poi abbiamo 66 66 non c'è 39 il 39 non c'è no 48 48 eccolo qua continuiamo con il 56 c'è il 55 niente niente 59 eccolo qui poi abbiamo il 31 eccolo qua andiamo avanti con il 65 che non c'è 24 eccolo qua l'abbiamo presa la prima colonna almeno è vincente poi abbiamo il 61 che non vedo continuiamo con il 21 che non c'è 28 non c'è nemmeno il 28 qui abbiamo il 49 eccolo qui poi 70 non c'è vediamo con il 63 che sta qua e infine 25 niente sta qua ma non serve a niente va bene ragazzi vediamo che se sono 3 euro comunque sia non è perdente a 5 euro ragazzi bene bene sempre meglio di 3 allora adesso ragazzi vediamo con Aria Gold numero 3 allora Aria Gold numero 3 vediamo i numeri vincenti 15 40 29 46 e 25 vediamo ragazzi iniziamo subito da qui 17 e non c'è poi abbiamo il 27 niente 32 niente 11 nemmeno poi vediamo con il 42 che non c'è qui il 28 c'è il 29 13 niente 35 niente 18 non c'è 37 non c'è adesso vediamo i per 2 i per 2 20 che non troviamo poi abbiamo 45 c'è il 46 29 eccolo qua l'abbiamo trovato il per 2 l'abbiamo trovato almeno vincente almeno saranno voglio dire il minimo è 10 euro no 33 non c'è ultimo numero il 12 che non c'è allora vediamo ragazzi il 29 va bene 10 euro benissimo ragazzi sono contenta allora adesso invece abbiamo un tutto e per tutto numero 29 vediamo qui ok allora numeri vincenti 42 11 21 23 e 46 allora prima giocata prima colonna 32 non c'è non c'è scusate ma ho grattato 22 non c'è c'è 23 39 non c'è 43 niente c'è 42 seconda giocata 37 e non c'è 19 niente 26 no 33 nemmeno ultima colonna 41 e c'è 42 40 niente 27 niente e ultimo numero 34 e ragazzi niente anche questo biglietto è perdente allora ragazzi abbiamo grattato un attimo che ok abbiamo grattato tutti questi grattini qui e abbiamo comunque preso allora 5 euro con i numeri fortunati e 10 euro con l'aria gold comunque 15 euro va bene ragazzi e c'è andata bene e ho speso 20 e ne ho recuperati 15 comunque ragazzi io sono felicissima per quanto riguarda tutti voi iscritti io vi do un bacio fortissimo e un abbraccio ciao ciao da Marilena alla prossima ragazzi di